Siamo professionisti, noi siamo risorti, noi siamo testimoni, noi eravamo morti. Bili siamo morti, l'incontro con la comunità, l'incontro con madre Elvira, susret sa zajednicom, susret s majkom Elvirom, aridato, respiro, aridato, sangue vivo nelle vene, vratilo nam je to dah, živu krvu u našim žilama, aridato, respiro all'anima, to nam je vratilo dah i našoj duši. Non era morto solo il corpo, nije bilo mrtvo samo naše tijelo, era morta la fede, bila je mrtva i viera, era quasi morta l'anima, i skoro da je bila umrla i duša. Madre Elvira ci ha fatto incontrare Gesù. Majka Elvira je ucinila da mi susretnemo Isusa. Ci ha detto Dio esiste. Li rekla nam je, boh postoi. Dio esiste. Boh postoi. I to je ono še ćemo vam večeras ispričati. Vedrete Pietro su questo palco. Na ovoj pozornici vidjet ćete Pietra. Un uomo. Jednog čovjeka. Un uomo forte. Jakog čovjeka. Un uomo deciso. Odlučnog. Un uomo che, kada Gesù lavava i piedi agli apostoli, čovjeka koji, kad je Isus sprao noge učenicima, Lui ha detto, non mi laverai i piedi mai. Pietro je rekao, nikada mi nećeš prati noge. Ineterno. Nikada. Mai. I vječnosti, nikada. Pietro ha detto, Gesù, è bastato che gli ha detto, se non ti laverai i piedi, non avrai parte con me. I bilo je posve dovolno da Mo Isus kaže, ako ti ne opere mnoge, nećeš imati udjela sa mnom. E Lui subito, dal mai di prima, ha detto, tutto, il capo, la testa, tutto, tutto. I od onog nikada, koji je zgovorio prije, rekao je, sve, i glavu, sve. Noi siamo come Pietro. A mi smo kao Petar. Un giorno, superman, spacchiamo tutto, sì. Jednog dana smo kao supermeni, sve možemo razrušiti, i lošem uvijek da. E lo stesso giorno. I već tog istog dana padnemo. Non abbiamo voglia, non ci piace, ci lamentiamo. Nemamo voglia, žalimo se, ne sviđa nam se nešto. Vedrete su questo palco i miracoli. Le brozi guariti, c'è chi che vedono. Na ovoj pozornici ćete vidjeti чудesa. Gubavce koji ozdravljaju, slijepce koji ponovno vide. Le brozi che guariscono, siamo noi. Gubavci koji ozdravljaju, to smo mi. Noi eravamo morti. Mi smo bili mrtvi. Siamo guariti. I ozdravili smo. E non ci hanno dato le pastiglie per guarire. I nisu nam dali tablete da bi ozdravili. Ci hanno dato la parola di Dio. Dali su nam rieč Božju. E con la parola di Dio i cuori guariscono, i cuori risorgono. I sa Božjom rieči srca ozdravljaju, uskršavaju. Noi di questo siamo testimoni. I mi smo tomu siodoci. E questo cercheremo di farvi vedere. I to ćemo nastojati vam pokazati. Seguimi è il titolo di questo recital. Slijedi me, to je naslovo ovog muzikla. E' completamente nuovo. I potpuno je sve novo. E' come un bambino appena nato. I ovaj muzikl je kao novorođence. Vi chiedo, per favore, di non applaudire quando Gesù... Anzi, non ve lo dico, perché siete un pubblico intelligente. Quindi non finisci la frase? Non la finisci. Aha, ok. Dakle, zamolio bih vas da ne plješete kada Isus... Ma ne, neću završiti rečenicu jer ste vi jedna inteligentna pubblica. Vi ćete to znati kad ne treba plješkati. Quello che facciamo su questo palco è evangelo. Ono što ćemo na ovoj pozornici pokazati è evangelo. E' una preghiera. To' è una molitva. Ed è soprattutto un grazie a questa terra benedetta dove il cielo è sceso un po' più vicino. E' una da sve, ovo što ćemo vam pokazati è jedno hvala a ovoj blagoslovljenoj zemlji. Gdje se nebo spustilo i malo bliže je zemlji. Vogliamo dire grazie a madre Elvira che ci ha fatto incontrare Gesù. I želimo reći hvala maici Elviri jer nam je omogućila da susretnemo Isusa. Grazie Elvira! Hvala Elvira! Grazie! Hvala! Vogliamo dire grazie ai frati di Međugorje che ci vogliono tanto bene. I moramo reći hvala franjevcima iz Međugorja koji nas jako vole. Che continuano a sopportarci. I ustraju tome da nas podnose. Continuano ad ajutarci. I nastavljaju nam pomagati. Siamo felici di essere parrochiani di Međugorje. Sretni smo jer smo župljani Međugorja. E voglio chiedere al parroco Framarinko I želim zamoliti Framarinka, župnika Di benedire il palco e voi Da blagoslovi i ovu pozornicu i sve vas.